Giovedì 23 maggio, la procura di Sciacca vuole capire i motivi che hanno prodotto l'emergenza rifiuti a Sciacca, in particolare ha acceso i riflettori sul periodo compreso tra fine aprile e metà maggio, periodo nel quale si è prodotta anche una copiosa corrispondenza tra Sogeir, Impianti, Comune e Dipartimento Regionale, Acque e Rifiuti. In particolare la procura vuole vederci chiaro sulla repentina saturazione della discarica Saraceno-Selinella di Sciacca, un'indagine per stabilire se vi sono responsabilità che possano configurare interruzione di pubblico servizio. La città di Sciacca ha ricordato il sacrificio di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonino Montinaro uccisi nell'agguato sull'autostrada A29 nei pressi di Capaci, 27 anni fa. Il sindaco Francesca Valenti ha promosso un momento di commemorazione che si è svolto questa mattina nella villetta Lombardo, davanti al cippo in pietra arenaria che ricorda tutti i caduti nella lotta contro la mafia. Nel pomeriggio, nell'istante della strage di Capaci, nell'altro superiore del palazzo municipale, un altro momento di ricordo. Revocate altre due autorizzazioni ad esercitare l'attività di commercio al dettaglio al solo pubblico presso il mercato di San Michele. Il motivo è il mancato pagamento del canone per gli anni 2018 e 2017. I due commercianti ambulanti devono restituire l'autorizzazione amministrativa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. È stato emesso con determina dal dirigente del quinto settore trasmesso alla Polizia Municipale. Continuano dunque i controlli, dai primi di aprile ad oggi sono complessivamente 28 i provvedimenti di revoca emessi dal Comune. Ad aprile erano state revocate contemporaneamente ben 26 autorizzazioni. Pochi giorni dall'elezione europea la città di Agrigento si è svegliata questa mattina invasa da manifesti elettorali di Matteo Salvini. Erano però falsi. Sopra l'immagine del vice premier campeggia infatti un appello al voto improbabile. Terroni, votatemi, così c'è scritto. Una provocazione evidentemente per ricordare le storiche posizioni della Lega prima che aprisse al Sud Italia avviasse la nuova linea politica proprio di Matteo Salvini più incentrata sui temi dell'immigrazione. Un'iniziativa realizzata da ignoti. I manifesti naturalmente sono stati rimossi. In Sicilia i saldi partiranno, quelli estivi, il primo luglio e chiuderanno il 15 settembre. La decisione è arrivata nel corso di una riunione all'assessorato regionale Attività Produttive nell'incontro con le associazioni di commercianti e dei consumatori che chiedevano l'anticipazione della data degli sconti. Gli uffici adesso dovranno modificare il decreto regionale dove la data dei saldi estivi era stata fissata per il 6 luglio prossimo, il primo sabato del mese. Tutto rinviato invece per il decreto che dovrà definire le date di inizio e fine saldi per il biennio 2020-2021. È tutto, restate su Corriere di Sciacca.it per approfondimenti ed altre notizie. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.